Salve a tutti ragazzi, riaccoci qui in questo nuovissimo video, questa nuovissima guida sui urli e sulle parole del potere. Allora, iniziamo subito dicendo cosa vedremo oggi. Oggi vedremo l'urlo pace di Kain o Kine. Non so come si pronuncia, non mi interessa. Cosa fa? Gli animali selvaggi non attaccano o fuggono. Allora, vediamo insieme quindi le tre parole dove prenderle, quindi come ottenerle, cosa fare, vabbè, avete capito. Allora, la prima parola, appunto, è Kine o Kain, poi c'è pace e poi c'è fiducia. Allora, la prima parola la si trova in un luogo che, per chi mi segue già dall'inizio, già ci siamo stati, per il semplice fatto che in questo luogo si trova una delle maschere dei sacerdoti del drago. Quindi qui, una volta arrivati, arriverete davanti a una tomba che vedrete tra poco, e davanti a questa tomba cosa dovete fare se non ci siete mai andati in questo luogo? Dovete inserire questi due sigilli, che non ci sono, appunto. Una volta, quindi, che voi cliccate su questa tomba, partirà una quest che vi dirà i luoghi precisi dove prendere questi due sigilli. Quindi una volta ottenuti, andate davanti alla tomba, si metteranno in automatico su questa tomba, uscirà il sacerdote, lo uccidete, gli date tante di quelle mazzate per ucciderlo, e poi prendete la maschera e prendete anche la parola del potere. Invece, per la seconda parola del potere, cioè pace, dobbiamo andare in un tempio, e in questo tempio qui, dopo aver ucciso dei fantasmi che stanno fuori, possiamo entrare. Una volta entrati, è molto semplice, ci saranno altri fantasmi, l'unica cosa che dovete stare attenti è che c'è una trappola, una botola che si aprirà, e voi ci cadrete dentro per poi andare in una sorta di cella, ci sarà uno che vi barrerà, voi uscite, lo uccidete e tornate indietro. Tanto vedrete tutto ora. Invece, per l'ultima parola, no, però intanto non mi va di dire l'ultima parola, per il semplice fatto che manca ancora del tempo prima che inizi per mostrarvi il luogo dove si trova. Vi volevo dire, soltanto, vi volevo dire delle cose. Allora, la serie su... come si chiama? Su Dead Island, insieme al mio amico, non possiamo più mandarla avanti per il semplice fatto che abbiamo venduto Dead Island per PlayStation 3, perché lo volevamo acquistare per PC, quindi... Quindi per ora si è fermata lì. Non c'è modo per continuarla, perché non avendo più il gioco, non sappiamo più... Forse ci metteremo noi in giro per la città a fare degli zombie, ma non penso. E quindi, avete visto, ritornando al video, avete visto, sono caduto, sono... sto risalendo e sono tornato qui. Quindi la botola sta al centro, giusto al centro, quindi voi quando ci passate quella si aprirà. Quindi voi andate lateralmente per apprendere, appunto, la parola del potere. Invece, per la terza, la terza ci sono alcuni enigmi, ed è un po'... è semplice, ma un po' lunga. Per il semplice fatto che dobbiamo andare, per ottenere la parola fiducia, dobbiamo andare nel tumulo della coltre di fuoco, al sud-est di Wytran. Però, prima di fare ciò, ci servirà iniziare una quest per forza. Per il semplice fatto che iniziare questa quest ci darà poi un oggetto, che è un artiglio, che ci servirà per aprire una porta in questo tumulo della coltre di fuoco, per poi apprendere la parola del potere. Quindi dobbiamo andare in questa città, per andare nella locanda, appunto, della città, e parlare con questo tizio, e chiedere e fargli la domanda riguardanti... riguardanto... riguardante il... il tumulo, no? Se sta qualcosa sui tumuli. E lui vi dirà, sì, dovete andare lì a prendere un diario, dobbiamo portargli un diario, un libro. Quindi noi, non vi preoccupate, il tumulo sta vicinissimo, cioè due passi. E quindi entrare, per prendere poi questo... ora vi faccio vedere. Vedi, voi uscite, andate, sta proprio qui. Quindi non dovete fare chissà che strada. Quindi voi entrate tranquillamente in questo tumulo, e poi ci sarà un primo enigma facile da risolvere, ora vi faccio vedere. Allora, voi vi troverete in questa stanza che state vedendo, chiusi, vi chiuderete dentro per forza. Voi dovete mettere tutte le leve in alto e tirare giù soltanto la prima di sinistra. Poi dovete tirare questo catenaccio, tipo scarico del bagno, e aprire quest'altra porta, arrivare qui, uccidere questo tizio che si metterà tra il libro e voi. E poi, una volta ucciso, qui, un liscio, una volta ucciso, potete prendere qui il diario e riconsegnarlo, appunto, a quello della locanda. Però vi volevo far vedere, un attimo, una cosa. Cosa... per quale motivo dobbiamo finire questa quest. Ora qui, se voi andate a sinistra, qui ci sta una porta. Una volta di aprire questa porta partiranno delle fiamme, io mi volevo abbrustolire, arrostire, però poi decido di andare avanti. Qui, come state vedendo, ci sta questa porta. E l'unico modo per aprire questa porta è utilizzare l'articchio. Quindi, appunto, vi serve questa missione, perché se non la iniziate, ok, potete andare qui, ma una volta arrivati in quel punto, non avendo l'articchio, non potete fare nulla. Quindi, ridate il diario a questo tizio e lui vi dirà... vi dirà... vi darà... vi consegnerà l'articchio necessario per aprire la nostra porta. Quindi, una volta fatto ciò, torniamo, appunto, nel luogo, andiamo su oggetti varie, vediamo l'articchio, vediamo quindi la posizione esatta delle immagini da selezionare per poi aprire la porta. Una volta fatto ciò, farete un percorso, ci tirerete qualche scheletro e poi arriverete qui. Una volta arrivati qui, dovete fare questo enigma. Allora mettere balena, aquila, serpente e poi di nuovo balena. Poi aprite questa porta e poi troverete uno scheletro. Andare su questa, se avete visto, il sigillo per terra e guardare questa parte, questa zona qui a sinistra. Non questa, ma questa parte qui, dove sto mirando. Lì dovete aspettare che fuoriesce il sigillo del serpente. Una volta fatto ciò, che ora tra po' vedete, si sta aprendo la porta. Una volta che si è aperta, voi scendete dal sigillo in modo tale che si fermano le porte. La lasciate, quella deve essere aperta, quella del serpente. Andate qui fuori, mettetevi su questo sigillo e aspettate che il ponte cade. E quindi voi tranquillamente potete andare avanti nel vostro percorso. Quindi una volta sempre qui uccisi questi mostri, qua, attenti che ci sta una trappola che si è attivata, che cadono i sassolini che vi fanno addosso. Poi aprite questa porta e magicamente ci troviamo. Qui vi troverete in questa sorta di altare, dovete uccidere oltre al sacerdote del drago qualche altro scheletro. E poi andate qui in questo percorso, in questo tunnel, per poi arrivare qui in questo luogo dove ci sta una baule, ma a me non mi interessa. Perché sono qui per farvi vedere le parole del potere. E quindi abbiamo appreso la parola fiducia. Una volta fatto ciò che ci basta, come sempre, uscire fuori e mostrarvi, quindi apprendere l'ultima parola del nostro urlo, per poi mostrarvi sempre l'effetto visivo di questo urlo. Il video è finito e spero che questa volta ci vediamo domani. Ciao ragazzi!